Il porto di Marina di Camerota si rifà in look. Inaugurato ieri pomeriggio il cantiere d'inizio lavori dell'importante infrastruttura portuale. A dare il via simbolicamente agli interventi è stato il primo cittadino del comune cilentano, Mario Salvatore Scarpitta. Davvero un momento straordinario atteso in questi cinque anni. Camerota con la realizzazione di questo porto si candida a diventare metaturistica e grande attrattore. Si tratta nello specifico di un importante intervento di messa in sicurezza e adeguamento infrastrutturale per un importo complessivo di 6,4 milioni di euro. Un intervento importantissimo strutturale ma soprattutto per ridisegnare il nuovo layout del nostro porto è l'intervento che i nostri pescatori attendevano dall'altro secolo ma è anche l'intervento che qualifica dal punto di vista turistico il porto di Marina di Camerota perché aggiunge servizi. Oltre all'escavo avremo una banchina di sopraflutto molto più lunga, avremo la rifioritura dei massi e la messa in sicurezza del molo di sopraflutto che era molto importante, come avremo nel molo di sottoflutto ulteriori misure di sicurezza che ci consentiranno di stare più tranquilli. Anche il molo, quello in massi centrale, sarà ovviamente risistemato e diventerà un attracco anche per altre barche.